Chi è che fa lo spettacolo? Allora, con la foca con cui Aimone è partito, non vuoi che altro fosse Pisano? Ah, mi dicono, è peggio, è lucchese, è ancora peggio. Ah, io queste faide non le conosco tanto. Le conosciamo un po', perché siamo in amicizia, quando andiamo ai loro tornei, le notti non finiscono mai. Ma ai voi, è di Pisano! E allora con la pubblica che ho fatto stamattina? Perché vuoi caricare lo tu? E' vero? No, no, è tipo... Vai, Azzo, vai! Vai, Azzo! Vai, Azzo! Vai, Azzo! Vai, Azzo! Vai, Azzo! Vai, Azzo! Colpisci la colletto, Azzo! Grazie